Buongiorno a tutti, io sono Luca Gravero di Bra, come ho già detto da Stefano. Il gruppo di Bra è stato fondato poco meno di un mese fa, quindi siamo ancora pochi giovani, tra cui ad esempio qua c'è Denista Rinco, che ci stiamo organizzando per crescere, grazie alla spinta di Alberto Brignone che ci ha fatto decollare. Noi vogliamo espandere la nostra influenza su Bra per contrastare anche la giunta Sibille e più in generale la giunta Abresso perché stanno veramente facendo dei disastri. Noi vogliamo il federalismo, vogliamo maggiori servizi, vogliamo i treni che funzionano. Io sono pendolare, tutti i giorni vado a Torino per l'università, ma i treni non vanno bene, da cinque anni che c'è questo problema e con Roberto Cota avremo più servizi che è questo, il succo del federalismo e le tasse diminuiranno. Grazie a tutti.